La speranza non muore e Dal Vignasego si cerca di guardare avanti. Nasce con questo spirito l'osservatorio Covid, una commissione creata nell'ambito del comune con il sindaco presidente. Ora cerchiamo anche con il concorso delle minoranze, dell'opposizione, tutti insieme di dare una risposta che guardi al futuro, quindi non più all'emergenza ma con una prospettiva più ampia. Il gruppo di lavoro composto da consiglieri e funzionali del comune lavorerà per sei mesi e si ritroverà per la prima volta il 21 gennaio. Vogliamo dire che noi ci siamo, ci siamo nell'incontrare, nel confrontarsi con i portatori di interesse del nostro territorio, le associazioni di categoria economica ma anche con tutto il mondo del terzo settore, del volontariato sociale che è stato il grande protagonista di questa emergenza. Capire, ascoltare, sviluppare bozze di idee da condividere con organismi sovracomunali. A parlare sarà chi queste emergenze economiche e sociali la sta vivendo sulla propria pelle. Ci sono le imprese, le piccole imprese, i piccoli artigiani, i piccoli commercianti, soprattutto quelle attività economiche che sono state più penalizzate, perché ci sono in questa pandemia delle attività che sono state più penalizzate delle altre. E poi ci sono le famiglie, tante famiglie di lavoratori che si sono trovate da un giorno all'altro in cassa integrazione, molti, uno oggi che aspetta la cassa integrazione di novembre, alcuni che non hanno ricevuto alcun tipo di sussidio. Ecco famiglie che stavano bene, famiglie che si trovano da un momento all'altro in grave difficoltà.